Audizio. Non ho nessun interesse sessuale per te. Sono il Postal Dude. Vendica il mio cane, Champ. Guarda che grafica che hanno ste cinematiche. Va bene, Postal Dude. Basta frociate. Mi serve il mio equipaggiamento. Dov'è che l'hai messo? Poi ho visto come mi guardi. Io e te siamo una cosa sola. Hai ragione. Sei irresistibile ai miei occhi. Comunque le tue cose sono in bagno. C'è la tua pistola Colt 1911 calibro .45 made in USA. Nello zaino c'è anche un po' di crack. Ne avrai bisogno. E premi il tasto triangolo per saltare. Ma di che cazzo di tasto stai parlando? Ma dove cazzo è sto sfaccimma di zaino? Vabbè visto che ci sono mi faccio una pisciatina. Dio, fio. Aelie li 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 aie aelie li aie aelie li aie. Ma che sfaccimma fai? C'asta punto di domanda. Mi hai pisciato tutto il cesso, figlio di puttana. E poi cosa ci fai nella vasca? Questa casa non è un albergo. Sei in missione, finocchio ma sei ritardato